Ho già dato mandato al direttore generale dell'Aslo un imperiese di svolgere ogni verifica e accertamento necessaria al fine di assumere immediatamente pesanti provvedimenti nei confronti del personale che risulti coinvolto. Questo scandalo al pari della vicenda mediatico-giudiziaria legata alla sperimentazione di ortopedia dell'ospedale di Albenga è solo una delle pesanti eredità della precedente giunta regionale di centro-sinistra. I continui richiami all'opportunità delle scelte che provengono da quella parte politica li restituisco quindi al mittente e anche con gli interessi. Dalla precedente amministrazione ho ereditato un sistema in cui non era stato né previsto né messo in atto alcuno strumento idoneo e efficace di contrasto a eventuali ipotesi di illegalità. È quanto afferma la vicepresidente della regione Liguria e assessora alla sanità Sogna Viale in merito alle indagini in corso sulle presunte liste di attesa pilotate dell'Aslo 1 d'Imperia. Di fronte a questa situazione critica e pesantemente lacunosa, aggiunge la vicepresidente Viale, ho avviato una serie di azioni e interventi per porvi efficace rimedio. Grazie al ricambio dei vertici delle Asle Liguri con nuovi direttori generali, ai quali da ieri si affiancano i nuovi direttori sanitari e amministrativi, ho dato impulso all'attuazione nel sistema sanitario regionale delle linee guida predisposte dall'autorità nazionale anticorruzione. L'obiettivo delle misure attivate fino a oggi, aggiunge la vicepresidente Viale, è quello di arrivare entro la fine del 2017 a un sistema di accesso alle prestazioni sanitarie trasparente e omogeneo su tutto il territorio regionale.